Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars, io sono Sparks Oggi abbiamo novità su cose, intanto abbiamo le uova da raccogliere dall'evento Godzilla Quindi vediamo quante uova riusciamo a fare oggi Inoltre ci sono anche ben 6 uova nello shop gratis Che possiamo aprire, sono 6 uova che hanno regalato tramite i social, Instagram, Youtube, con dei like C'erano delle challenge con i like, tipo raggiungiamo un tot like E vi regalerò delle uova Vediamo un po', mettiamoci un brawler Qual è la mappa di oggi di Godzilla? Ah, questa mappa qui E quest'altro mi metto al solito Melody E in questi giorni dobbiamo organizzare ragazzi una bella live Un'altra nuova live con... per portare tutti a livello 20 Perché me ne mancano pochissimi a portare a livello 20 Abbiamo RT, Gas, Mico e Charlie e Gray Gli altri sono tutti portati già al 20 Lo faremo nelle prossime live, non oggi Mi ricordo non andrò in live né oggi né domani Ho i miei parenti ospiti quindi non farò live Ma tornerò in live se va tutto bene Nel martedì, quindi martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato E anche domenica avrò live Poi lunedì prossimo sarò in Finlandia Per l'evento del lancio globale di Squadbusters Quindi sarò alla sede Supercell Mettiamo Melody e iniziamo subito la prima partita E poi andiamo ad aprire le prime due uova Per vedere che cosa potremmo trovare Allora abbiamo Meg E ringer Vado dritto per dritto Stanno già asfaltare Stanno già asfaltare Ficchia, picchia, picchia Ok, ho ucciso subito A sto punto io me ne approfitto Inizio a spawnare a questo lato, scusate E' andato che non gliene frega niente Vai così, bravissimo signor Godzilla Buono, ha fatto un bel Una bella percentuale In più i miei compagni di squadra Stanno facendo un devastamento assurdo Oh mi dispiace per Enrico Ma io spawno qui, guarda Mi dispiace tantissimo Guarda pure quest'arto Quante cavolo di danni sta facendo E mi ha fatto un botto di danno Perché fa imbalzi infiniti Ma sono diventate illegali Guardalo, guardalo Ok, l'abbiamo killato Abbiamo ben 5 nodi Dobbiamo sbrigarci Perché le 5 nodi fanno un botto di danni Ok, vedi qua Madonna, vediamo Mettiamoci là Le difese Veloce, veloce, veloce Uh Un per cento L'abbiamo pure killato Meg, che stai facendo? Kill, kill, Meg Vai, 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 vai Dai, abbiamo vinto la prima partita Non ci credo Oggi iniziamo benissimo Una prima win Migliore in campo Allo Sparkshead Attenzione Allo Sparkshead Abbiamo pure il nuovo Star Drop mitico Star Drop mitico Cosa troveremo in questo Star Drop mitico? Una skin Punti energia Secondo me Punti energia come esempio Perché ci scamba sempre O credito Punti energia In questo momento Pensateci Perché potrebbe essere Anche un modo Per aiutarmi Codice Sparks Così vi portate fortuna Un bel like In questo momento Via 500 monete Che per me sono una Tanta roba 500 monete Non è per male Non so voi Ma io preferisco avere Monete infinite Guarda Vi ricordo che a breve Dovremmo fare anche L'apertura di tutti Star Drop Del pasta Che sono Ne sto conservando Tutti per aprire Tutti in una volta Quando siamo ancora A metà del pasta 18 giorni mancano Quindi a voi Ancora per completarlo Cioè abbiamo tempo Poi lo completeremo Magari live Tutti insieme Con le missioni Mi aiutate a fare le missioni Andiamo ad aprire Le prime due uova Viva che troviamo qua Oh Prime due uova Allora raro Aia subito raro 20 crediti Ma è possibile Che si sono abbassate Le percentuali Di diventare Mitico e leggendario Perché ormai Ho trovato tutto Vai andiamo a fare La seconda partita Va La prima Ma speriamo nella seconda Voi intanto Droppatemi nei commenti Cosa avete trovato Nelle prime due uova Che avete aperto In questo evento Allora Ci abbiamo Rico Loro ci hanno Rico Abbiamo Meg Abbiamo Loro hanno Meg E poi ci sono I che c'ho Melo E loro hanno Ercanozzo Porca paletta Nercane Quindi lo dobbiamo Passare da qua Lateralmente Perché se no Iniziamo a killare Meg Vai 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 Aia Meg mi ha distrutto Però gli ho tolto Una cosa importante Cioè gli ho tolto Il car armatino Qui ha eliminato subito Andiamo subito A farci le note qua Noi vado Questa la devastiamo Questa la devastiamo Questa la devastiamo Vai 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 5 note 5 note Nella tuta gold Melody Ti divasterà Tutto Adesso killiamo Niente Non ce l'ho fatta Quasi killata Ah mi sa che stiamo perdendo È possibile Stiamo iniziando Attaccare in questo momento Aspetta che dobbiamo Pushare anch'io Mi serve quello la No non me lo killa Non me lo killa Mi serve a me Mi serve a me Vado Inizia a fare I devastamenti Sparksedu Inizia a devastare Inizia a devastare Inizia a devastare Lo Sparksedu E mi deve pigliare Prima Non so se andare All'altro lato Io nel frattempo Eh comunque vedi E il problema è il ringhio Ma ringhio fa un botto Di danni ragazzi Ma come si fa a gestire Eh l'ho eliminato Lui mi ha eliminato Però guarda la percentuale Adesso nostra Stiamo rimontando Ma sai che forse Non mi conviene manco Mettere Ehi Stegarma Meg Stegarma Aglia ma il tato è brutto Si però porca paletta Veramente è fastidioso Veramente ringhio Con la mutazione La mutazione è più forte Di tutti Ma non si può così Ragazzi Comunque stiamo vincendo 10% Dai 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 Non resisti 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 Butta 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 giù No Non può fare L'ultimo percentuale No Difenditi Bravissimo Ucciso 5 secondi Vai se lo posso fare Sparksedu Curi 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 2 secondi No 1% a 4 Mancavano 4 case Certo se pushavano Magari Vabbò dai Una volta è andata maluccio Sapete che faccia Invece di Melody Sparo ringhio Perché ho visto che ringhio Non ce l'hanno molto Invece metto ringhio io Che magari ce la facciamo Non l'abbiamo vinto Quindi non apriamo le uova In questo round Proviamo ad aprire le uova Nel prossimo round Se riusciamo a vincerlo Con ringhio Vediamo un po' Ecco questi hanno Meg Pamma Noi abbiamo Hank Meg E ringhio Noi siamo messi Noi siamo messi Molto meglio Qualcuno deve prendere Dice che c'ha ragione Vedi qua guarda Se facciamo già così I colpi Dorebbero iniziare a rimbalzare Abbastanza Siamo già a 92% Io che spammo colpi così Perfetto Che poi fa anche 3 colpi Quindi è devastantissimo 82% Buona la kill qua Ma lanciamo questo Ringhio contro ringhio Chi vincerà Ringhio del sparse Vince Contro me Non potevo fare niente Però Noi se riusciamo a killare il ringhio Che mi sta lanciando Forse un colpo Vai pushiamo 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 Dobbiamo vincere Questa partita E porca paletta Guarda sta pamma Come mi sta pushando pure 42 di vita Vai 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 Dobbiamo pushare Dovete pushare Se no perdiamo Ma perché non attaccano Anche se muoiono Ma cosa non capiscono Porca paletta Niente Compagni ancora una volta Devastati ragazzi Niente Dai proviamo un'altra partita Oh prima o poi Siamo partiti benissimo Con una vittoria Ma perché avevo comunque Una compa decente trovata Avevo sia mag Mi sa Che ringhio Semino Semino potrebbe essere Un po' invadente Però si killa easy Mi sa Falla anche tu qualcosa Stai cuccio Falla qualcosa anche tu Porca paletta Vai vai Fate rimbalzare i copi Fate rimbalzare i copi Veloci veloci Bravi così Stiamo iniziando a rimontare Stiamo iniziando a rimontare Abbiamo più colpi Guarda dove rimbalzo Dappertutto Vai 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 Stiamo iniziando a carburare Con i colpi Sta avendo Verso di mergo zillone Bella qua In pieno tutti Sium Sium che strike E qua c'è un altro Vai 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 Si puscia Si puscia Si puscia Si puscia Si puscia Fratelli Si puscia Si puscia No sono morto io 4% 3 2 Dai abbiamo fatto l'ultimo push Noi abbiamo vinto Dai 2% Ormai è fatta Io ergo il lozzo Io non posso far rimbalzare i colpi Per ora Facciamo da qua Dai è vinta L'abbiamo vinta Quindi possiamo finalmente Aprire altre due uova Allora abbiamo uno Qua della Vabbè sempre raro Niente Quella giornaliera L'abbiamo aperta Adesso abbiamo altre due uova Di queste qua Vediamo che troviamo stavolta Super raro Epico Non lo faccio da tanto Ma mai dire mai Perché da tanto Non mi esce il leggendario Occhiali portafortuna di sparks Si 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 E poi mi dicono Di fare le combinazioni Quando basta usare Gli occhiali di sparks Ovviamente Senza l'iscrizione Al canale Non funziona Quindi iscrivetevi al canale Porca paletta Guardo come escono sempre Sti leggendari Cosa potrebbe uscirmi Raga Io spero una bella skin Fighissima Non deludermi Si No un altro block Giallo scommetto Blu Ma perché non ce l'avevo già Quello blu scusa Ma quindi Adesso quale Super raro Ok no Basta Quale colore ci mancano Dei super ranger Scusa Dei power rangers Andiamo a guardare al volo Perché mi sa che le ho quasi tutte Non esce il giallo Mi manca solo il giallo Comunque Rosa Rosso Nero Blu E giallo E mi manca il giallo No no Non abbiamo quattro Non manca l'ultima Chissà se la troverò Prima della fine dell'evento Magari Sarebbe fighissimo Completare tutte le skin Dai andiamo a completarci La partita Ma mi devo prendere Forza io sto tizio Ma che non serve Ma sfasciala Sfasciala Che c'è Il Godzilla di topogigio E il topogigio chi Zilla Eh volevi Ma si è fatto killare Quello stupidino Uno Tu Eh ma me Ma mi ha sciolto Mi ha sciolto Melody Questa è nel team pazzesco C'è il team dei topogigio Veramente Guarda 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 Ma che si mette Frank Qua porca paletta Io nel dubbio Me la pusho Eh La finta la finta Me la pusho qua Ma si è messo Scegli veramente Va Sforniamo tutto qua Perfetto Adesso sforniamo qua Stanno busciando Dello di brutto Nella zona loro Eh ma chi lato Shelly Insieme a Meg Ma sta a 20% Chi è che sta attaccando Eh ci sta C'è sta lui Che sto qua Ma no Che fastidioso Che sei giuro Che fastidioso Che sei Uno è Meg Vabbè hanno vinto Vabbè È normale Gioca con Tomar E Homer Scusa Ma che che è 0% e 68 È stata la partita Più ridicola Che ho fatto In vita mia Veramente La gente più scarsa Del mondo Peccato L'hanno fatto Troppare pure Incredibile Dai l'ultima partita Questa qua Vabbè nessuno Piglia niente Dove sempre Pegliarlo io Porca petta Frank Già sei inutile Prendilo tu Almeno questo qua No È più adatto A te Vai Sposciamo insieme Frank 78% No Mi è arrivato Il razzo In testa Adesso devo attaccare Però senza cosa Mi dispiace Che io La mutazione È buggata Qua Facciamo Rimbalzare i colpi Qua Uno Due Devo rimbalzare Ehi Stai calma Meg Stai calma Ma chi ti credi Di essere Meg Bello Si um Si vola Sì ma sei per cento Porca petta ragazzi Veramente Non ci posso credere Vabbè Come sempre Il mio team Non so Vabbè Frank È una scelta È buona Perché è veloce È tutto Ma è una scelta Patetica da mettere Qua Frank Potrebbe mettere Stack Potrebbero mettere Tantissime altre cose Sì ha fatto kill Ma non servono le kill Qua Serve fare Danni ai palazzi Vediamo un po' Allora Abbiamo i Quattro orari E due uova E dei bling Non so male Allora Primo uovo Super raro Punto energia Altro raro Questi sono finiti Sono rimasti Le ultime due uova Che leggendario Non può uscire Sicuramente Perché è uscito prima Però un mitico Potrebbe uscirmi Dai Giusto Epico Niente Niente Ma la sono gufata Raro Super raro E bling Solo bling Vabbè ragazzi Dai Potiamo andare a peggio Comunque codice sparse Sembra porta fortuna Avete visto Comunque un leggendario Abbiamo beccato lo stesso Dimmi anche voi Se avete beccato il leggendario oggi Nei commenti qui sotto E noi ci vediamo Nel prossimo video Da Sparks e tutta la prossima Bella